Due progetti per l'adeguamento di altrettanti impianti sportivi sono stati messi a bando dal comune di Capaccio Pestum. Il primo per la realizzazione del manto di gioco in erba sintetica all'impianto sportivo Tenente Vaudano. L'altro per l'adeguamento del campetto dei ragazzi adiacente allo stadio Mario Vecchio di Capaccio Scalo. Entrambi i progetti verranno finanziati nell'ambito del bando Sport e Periferie del CONI. Grazie a tutti.